in faccia ultima tinedra a cariciare Andrea Fullone si è preso la responsabilità ha detto sono io il capo cantiere guardatelo una tinedra di circa 25 tonnellate mogazzi sta con la spalla spezzata occhio guardatelo sta correndo per sbrigarsi guardatelo guardatelo silenzio perché è un momento critico si caca ed ecco il lavoro facciamo delle belle vuote hanno caricato anche i giorni bel lavoro Andrea eh si guardatelo come sono ridotto io invece io sono ancora più stanco dopo